10 parlamentari di centrodestra, 3 del Partito Democratico, 2 del Movimento 5 Stelle. Ecco il quadro definitivo di come sarà rappresentata la Regione Marche nelle nascenti Camere dei Deputati e del Senato che hanno portato all'elezione di 10 deputati e 5 senatori della Regione. Numeri che dipingono la vittoria del partito di Giorgia Meloni, numeri che ricordano come sarà scarsamente rappresentata la provincia di Pesaro Urbino. Pesaro, seconda città delle Marche, rimane infatti senza onorevoli. La provincia sarà rappresentata solo dal fanese Mirko Carloni, eletto al collegio uninominale alla Camera, dove avrà la compagnia del pergolese Antonio Baldelli eletto al proporzionale. L'ampio consenso di Carloni rappresenta una delle note più sorridenti di una che a livello nazionale si interroga su un'elezione non andata per il verso sperato. Gli altri due deputati della Lega saranno l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini e il coordinatore regionale della Lega Riccardo Marchetti, eletto al proporzionale. Con i suoi 35 anni Marchetti sarà il parlamentare marchigiano più giovane. Il pergolese Baldelli sarà invece in compagnia di altri quattro eletti di Fratelli d'Italia. Alla Camera, Luci Albano e Stefano Benvenuti-Gostoli. Al Senato, l'assessore regionale Guido Castelli ed Elena Leonardi, coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni. Parlamentari marchigiani di centrodestra, completati da Antonio De Poli per Udc e lista non moderati, confermato al Senato e da Francesco Battistoni di Forza Italia che approda alla Camera. L'opposizione, Irene Manzi e Augusto Curti alla Camera e Alberto Lossacco al Senato compongono il tris del Partito Democratico. Roberto Cataglia al Senato e Giorgio Fede alla Camera rappresenteranno invece i marchigiani del Movimento 5 Stelle. È un'elezione che cambia giocoforza anche l'assetto della giunta a Quaroglia alle Regioni Marche. Non è stato eletto a Guzzi, ma saluta in Ancona comunque metà degli assessori. A prendere le deleghe di Mirko Carloni e Giorgia Latini dovrebbero essere altri due esponenti della Lega come Andrea Antonini e Daniela Tisi. Le deleghe di Castelli rimarranno a Fratelli d'Italia con l'assessorato concesso a Carlo Ciccioli. Senza Carloni il vicepresidente della Regione dovrebbe diventare l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.